quindi in partenza vado direttamente al lato hotel e andiamo a vedere che cosa succede a che punto siamo milano super spettacolare cielo blu aria terza ho trovato la macchina di performance strategist pronta ad attendervi fuori dalla stazione centrale e adesso sono diretto al lato hotel di rome stanza 1326 come vedete il numero vediamo se riesco ad entrare allora dici che da sfioro questo no è c'è la chiave c'è il buco per la chiave vediamo se funziona così cazzo di qua nemmeno c'è anche il terrazzino molto industrial molto new york wow ok mi sono rifocillato sono pronto per andare a scoprire dove diamine sta la sala africa e vedere europa non è questa e vedere com'è il posto com'è organizzato vediamo se la trovi ha fatto una verifica signorina leghe dell'organizzazione quanti posti sono adesso ve lo diciamo subito uguale 222 posti 222 posti tutto esaurito mi ha detto no? si tutto esaurito ti recomando non avrà problemi in questa sala no? posso andare dovunque? devo spostare da un po' più nell'altro adesso che lo scaricare tutti su uno ma mi devo spostare tutti gli altri ok ok vorrei vedere un attimo se possiamo creare atmosfera o no ma quelle sui paletti le controlla il regista Andrea mentre quelle della sala le controllerai tu mi hanno detto loro ok e quindi sono qui da te perchè ti voglio fare una prova a spegnerle e vedere se è proprio buio che la gente si bacia o se si può lavorare ok cataloghiamo cioè lì c'è il nome? questo no è il settore all'interno di ogni settore in base all'ordine cronologico e descrizione quindi che settore siamo qua? B qui è B ma c'è un numero proprio per ogni sedia? no no all'interno del settore uno si vede dove vuole ah poi quando apri i cancelli esatto scatta Black Friday quindi basta che stai nel B e ti butti dentro esattamente no però prima c'è da passare in registrazione ti danno il badge dal badge B di settore B vengo al B allora voi del B che vi svegliate presto appena aprono i cancelli con gli striscioni e le bandiere se vi fermano i tamburi ok dopo vi aiuto io a recuperarli voi venite subito perchè queste file qua sono tutte per voi cercate di conquistarle la mattina presto a che ora possono venire? alle 9 ai 9 per la registrazione noi i posti migliori sopra al coso alla sopra si possono appollaiare così con la suite super suite